Prospettive della Valle del Benessere, la cittata lei un istante fa? La Valle del Benessere basta dire la parola per capire che l'uomo ha bisogno di benessere, non voglio nominare niente di drammatico di questi giorni, però allora bisogna di difendersi. Per difendersi bisogna essere molto legati alla natura, la natura ci insegna come vivere, ci insegna come progredire nel tempo e ci insegna come lasciare un segno nel nostro passaggio terreno. Quindi la Valle del Benessere è un posto molto bello, molto nuovo.